è vero si pigliamma su cos'è? piano piano oi canno ehi c'è la gente che è raro non ti piacevo cammese buongiorno a stanza ah non è vero tutto fa mi sento così di imbarazzire non lo so meno male che non è nesso stamattina giusto io se no che io sapo che mi riceve che è arrivata più tardi ah 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 c'è la miseria mannaggia ma struppiata ah che le fa tutta una questione di misure misure perchè chi è una che sta con i miei cani ha usato ma che lei è una questione cervella è di educazione annarella ma lei è stata qua ah non mi aveva visto la verità proprio no donna erne e fa Leonardo questi battuti squalli tannarella ma quale battuti squalli donna erne quale battuti squalli e con me non mi aveva visto io veramente non lo vedo proprio lo sento lo vedo come una cosa sfucata anzi la verità proprio lo vedo una pizze per so eh tengo un problema donna erne un problema grosso io anche con te un problema non è ogni mattina ti hai un problema tu io adesso se ve lo conto voi non mi credete io adesso se ve lo conto voi non mi credete eh eh beh perché raccontate tanto racconta ma perchè stia o donna mi è cresciuta un'ambolla nell'occhio come un'ambolla nell'occhio e il segno e la crescita è andata fatta e ah boh me l'hai giocata però quello dall'ospedale il medico non ha detto questa è una asfissia oculare perchè io voi lo sapete porto le lenti a contatto eh e purtroppo me l'ha giocato un po' parecchi tempo parecchi tempo quelle sono quelle da monouso che si usano questo massimo una settimana no e però l'ultima volta mi ha riscordato il melua me l'ha giocato un paremiseline dall'occhio ah bravo ha fatto un po' che fredda eh l'occhio si è seccato perchè voi dovete sapere che io tengo l'occhio secco eh ah tu hai corto male allora lo sapevo lo dicevo mi ciò non volevo dire perchè pareva una cosa ridicola quando me l'ha detto Mirga tengo l'occhio secco cioè che non l'acqua ah guarda la distruggi guarda l'acqua guarda l'acqua non l'acqua non l'acqua se non ti fissi un po' con quello a Leonardo che si muoreva la torre io mi sto comodo non posso fissare nessuna parte non è il nebo ma che l'acqua è secca non è che fissare me stai dicendo che non escono le lacrime non è umido ah tu hai ghiangere poco faccio la faccia di pacca non ti faccio ghiangere a te non mi faccio ghiangere niente Don Ernè io ci penso che l'è stato freddo forte ho freddo forte a rendere nell'occhio che mi avevano paremisa alla fine si è seccata lente si è seccato l'occhio si è seccato tutto cotto mi sono seccata pure io mi stai facendo veramente o stai scherzando no Don Ernè li sto facendo veramente non vedo niente ah ma allora perché hai usato tre volte la porza in terra si tratta su e hai usato la seggia pallare è stato pensato che li stavo facendo a posto io non vedo niente non posso non posso portare la macchina non posso prendere il pulmone non posso cucinare non posso fare niente non puoi fare anche la manicura se non li vedete la verità proprio dicessero evitare eh perché senza il lente è meglio evitare è meglio evitare ma oggi chiesto ho piaciuto a Leonardo se mi facevano pare l'occhiale sperammo che mi fanno Leonardo ti ha dato a fare le led ma è perché mi sono fai già la visita oculistica e mi sono fatto anche l'amministrazione me ne doveva soltanto ritirare sperammo che arrivi a presto perché se no io non ne ne non mi riuscito niente ma già mi piace 5-6 mesi perci pagate eh 5-6 mesi pagate però eh pagate perché questo è un fatto medico si certamente ma una cazzo senza soldi io vi porto il certificato medico e poi mi pagate tutte le 5-6 mesi io ti porto i miei a te giurimmi proprio ma non si vede la ruota non si vede la questione vedi come è brutto questo fatto che io vi sento parlare ma non puo vedere ah non puo vedere puo giù non che l'ombra viene no perché è una cosa una mattina non sa l'occhio eeeh ma vado va non proprio la mattina non lo so a proposito di mattina ciao Leonardo Mi hai ritirato gli occhiali? Sì, 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 sì. Grazie, la mamma lo sta spottando a te, mia credo. Ecco qua, chiudi gli occhi, giù. Chiudo, chiudo. Non vedo l'ora di rivedere di nuovo il mondo. Non ci vedi, bro? Niente, la mamma. Ecco qua. Come mi vedi?